ciao a tutti e bentornati sul mio canale nel video tutorial di oggi vediamo insieme come realizzare questo facilissimo e velocissimo bracciale per questo progetto io utilizzerò un cotone numero 5 che lavorerò con un uncinetto numero 1,9 e poi ho recuperato dei materiali di riciclo per cui un vecchio bracciale rigido e delle perle recuperate da vecchie collane per prima cosa infiliamo tutte le perle sul filo di lavorazione e poi andiamo a fare un nodino sul bracciale così adesso attorno al bracciale lavoriamo dei punti bassi per cui prendiamo il filo da sotto vedete e lavoriamo dei punti bassi da sotto prendiamo il filo lo portiamo su e lavoriamo un punto basso ho terminato di rivestire tutto il bracciale e ho terminato di rivestire tutto il bracciale ed ho lavorato un totale di 80 punti bassi adesso chiudo con un punto bassissimo sul primo punto basso in questo modo adesso avviciniamo la prima perla entriamo nel prossimo punto e lavoriamo un punto bassissimo senza perla avviciniamo la seconda e lavoriamo un punto bassissimo con la perla un punto bassissimo con la perla avviciniamo la perla e lavoriamo il punto bassissimo con la perla un 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 numeroち Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti.